Una città fantasma fatta di strade desolate, edifici in costruzione lasciati in disuso e sacchi dell'immondizia abbandonati in mezzo alla strada. Questa è l'istantanea che si ottiene arrivando a Lido Trearchi, il famigerato quartiere in provincia di Fermo, che ormai da anni si è trasformato nel teatro degli orrori. La scorsa settimana un 33enne tunisino è stato aggredito da 5 persone, una delle quali gli ha sparato un colpo di pistola in pieno volto. Pochi giorni prima tre auto sono state date alle fiamme. L'ennesimo regolamento di conti tra i clan della malavita che ormai si contendono il dominio di questa piazza di spaccio. Il presidente di Confabitare e l'associazione dei proprietari degli appartamenti della zona, Renzo Paccapelo, ha lanciato l'allarme. Noi vogliamo che a Fermo venga il ministro, vogliamo che a Fermo sia attenzionata come è stato attenzionato Caivano, come è stato attenzionato Torbella Monica, come sono attenzionati tutti i posti d'Italia a restio. Noi vogliamo che i cittadini che tutti i giorni vengono violentati nella loro proprietà privata, nella loro sicurezza, nei loro affetti, diciamo così, vengano rassicurati dalla presenza del ministro e soprattutto smettano di vendere le case, di svendere le case. Nelle ultime settimane la zona è stata letteralmente presa d'assalto dalle forze dell'ordine e dalle pattuglie della polizia per cercare di arginare l'escalation della violenza e mettere in sicurezza le famiglie del territorio. Ce lo conferma l'assessore alle politiche sociali del comune di Fermo, Mirko Giampieri. Per quanto riguarda le famiglie in difficoltà, è lì dove noi interveniamo come servizi sociali, abbiamo addirittura aperto proprio dei sportelli lì all'Ido Trearchi con diverse associazioni, questo grazie al coordinamento dell'ambito 19 tramite il dottor Ranieri, che ci permette di poter ascoltare le difficoltà delle famiglie. Anche il primo cittadino di Fermo, Paolo Calcinaro, ha mostrato grande preoccupazione per quella parte del territorio, non escludendo l'ipotesi delle espulsioni dei responsabili della malavita.